A terra! Quella cosa ci segue da quando siamo arrivati qui. Adesso la stanno. Cosa? Come? Sì, beh... buona idea. Quando scatta, eliminatela. Capito? Capito. 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 no correte la strevania porca puttana Marcus doveva aiutarci a battere quelle cose a salvare mia madre ora che diavolo faccia quella cosa non posso crederci l'ha ingoiato in un boccone va bene basta se n'è andato ma non è morto prendono le persone per usarle sappiamo che ci vuole un po' di tempo quindi adesso cerchiamo mio padre ci serve e se non riuscissimo a salvarlo? allora dovremmo cavarcela da soli cazzo ok ora che si fa? andiamo dove lo portano e sarebbe? dove stava portando anche noi quel cimitero di locuste ok 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 ciao 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 ciao